E' stato bellissimo, è un'esperienza unica da provare, da vedere e basta direi, il prossimo passo forse venire qua a vivere. E lei cosa dice? Sono contentissima, grazie per averci dato questa possibilità e ce ne andiamo sicuramente ricchi, molto più ricchi. E auguri, noi diciamo auguri, che vedi Liga, che bel cartello, just money, grazie a voi, ciao!